Hanno preso un ponteggio in un'azienda confinante dopo aver divelto la recinzione. Poi hanno tentato l'assalto ad una ditta di preziosi a lanciare l'allarme questa mattina ai titolari che hanno chiamato le forze dell'ordine. È successo in via Sergio Ramelli, zona industriale, nei mesi scorsi già finite in più occasioni nel mirino dei ladri. Lo scorso aprile un colpo nella stessa azienda che questa mattina ha lanciato l'allarme. In quel caso la banda aveva usato una scala per entrare dal tetto, a far sfumare il colpo e il sistema di allarme. Qualche mese più tardi un'altra salta in una ditta che si trova nella stessa zona. I ladri in quel caso riuscirono a fuggire con un bottino di circa 100 kg di ottone. Questa mattina è fine al ritrovamento del ponteggio che sarebbe stato asportato nel fine settimana per tentare il colpo. Dalle immagini delle telecamere di video e sorveglianza anche un insolito via vai, ma non sarebbero stati ritrovati segni di effrazione. Sul posto la polizia di Stato che sta portando avanti le indagini, sul posto anche la scientifica per i rilievi.